Sono terminati in queste ore i principali interventi sulla pista ciclopedonale tra Fondotocce e Sun, ad annunciarlo il sindaco Silvio Marchionini. Ora la nuova pista è percorribile, mancano solo alcuni piccoli interventi che si concluderanno nelle prossime settimane, ma l'opera è interamente aperta. Un'opera che ritengo importante per il futuro turistico, l'impatto sulla qualità della vita e sulla fruizione del nostro affaccio a lago, dice Marchionini. La pista realizzata è lunga due chilometri, i lavori sono stati lunghi e hanno anche spesso creato disagio al traffico. Ovviamente i tempi di lavorazione sono andati ben oltre le nostre aspettative, osserva la prima cittadina. La pandemia, i ritardi sulle forniture dei materiali, i problemi ai sottoservizi si sono rivelati più complicati di quanto pensavamo e di questo non possiamo che scusarci. Però ora l'opera è pronta e rimarrà come patrimonio per le generazioni future. Ora la feriode è disponibile un anello interamente ciclopedonale che collega la riserva naturale lungo il fiume Tocce e le piste dell'Ossola fino al centro di Sun. Non ci fermeremo qui, aggiunge il sindaco, perché proprio con la variazione di bilancio votata in Consiglio Comunale abbiamo inserito i 20 milioni di euro ricevuti dalla nostra partecipazione al bando di rigenerazione urbana che vedono tra le altre opere funzionali al completamento della pista ciclopedonale su tutto il fronte lago fino a Intra, tra cui la passerella sul torrente San Bernardino. Grazie a tutti.